Siamo qui alla pre-apertura del Genova Reloaded Quest'anno iniziamo presto, poi ci rivediamo a metà di giugno con un programma pazzesco, con Favino, con Zero Calcare con tanti film bellissimi, opere giovani, prime, seconde, terze questa serata con Gasman, adesso andiamo a fare l'aperitivo con firma Coppio e poi un altro firma Coppio e poi presentiamo Il Silenzio Grande e ci divertiamo Il Silenzio Grande è Alessandro Gasman Grazie 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 Grazie